Per quanto riguarda invece i frutti del mestiere, fra riconoscimenti e nomination, già adesso che sei giovane, insomma ne hai ricevuti abbastanza, ce n'è uno in particolare a cui tieni per qualche motivo particolare? Beh, sicuramente l'emozione del primo premio nel 2005 come voce emergente dell'anno mi è rimasta molto, è un premio che mi ha colpito molto. Famosa prima volta. Sì, dei più recenti invece ho ricevuto nel 2010 una targa a Pinolocchi per le migliori voci del doppiaggio che è stato consegnato al Todi Art Festival che ogni anno premia degli artisti e quest'anno per la categoria degli artisti è stato scelto il mondo del doppiaggio e tra i selezionati c'ero anch'io che ero l'esponente giovane della categoria e mi ha fatto molto piacere essere premiato. Su quel palco è stato importante per me. Beh certo poi un premio che porta anche il nome, no? Di un pilastro del doppiaggio infatti specialmente per quello. Tu stesso come doppiatore hai una voce preferita o comunque che guardi in modo particolare? Guarda ci sono tanti attori che stimo, tanti doppiatori, sia uomini che donne, adesso elencarli tutti sarebbe impossibile. La domandona ha fatto effettivamente. No, vabbè, è una curiosità, però ce ne stanno veramente tanti. Diciamo che molti mi hanno insegnato, mi hanno dato dei consigli, mi hanno aiutato a crescere in questo ambiente, sì da quando sono piccolo. Non solo comunque doppiatori, anche direttori, assistenti. Per citarne alcuni, Roberto Pedicini, Claudia Catani, Chiara Colizzi, sono veramente tanti. Ti trovi maggiormente a lavorare con dei colleghi o di più da solo, in colonna separata appunto? Beh, una volta era molto più frequente lavorare a Leggio con altre persone, con i tuoi colleghi. Adesso invece i tempi sono un po' cambiati e è più facile trovarsi da soli sia per il cinema che per le serie a fare la propria colonna separata. Però capita ancora spesso di avere la possibilità di parlare con qualcuno a Leggio. Forse di più per i film al cinema? Sì, per i film al cinema dipende, perché alcuni quando li mixano all'estero hanno bisogno ognuno della propria colonna e quindi loro si trovano tutti i file con le voci staccate dal resto del gruppo. Quindi anche lì dipende dal prodotto, dipende da molte cose. Diciamo questa è una domanda comunque che faccio un po' a tutti anche perché è un po' in sofferenza di trovarsi col tempo, soprattutto in questi ultimi tempi, magari particolarmente appunto per le serie tv, a dover lavorare come doppiatori da soli. Beh, ma è sempre piacevole comunque lavorare con qualcuno, no? Anche se si lavora sempre con qualcuno. C'è sempre il direttore, l'assistente in fuori. Sì, d'accordo, chiaramente. Però è bello rispondersi, ecco. Esatto. Ultimamente stai avendo delle esperienze anche al di fuori delle sale di doppiaggio, permettendo che comunque un doppiatore è un attore a tutti gli effetti e tu comunque stai ampliando gli orizzonti e ti stai cimentando anche nel ruolo di attore in video. Sì, ho iniziato l'anno scorso con un cortometraggio e in un episodio anche, ho partecipato anche a un episodio di una fiction, Fratelli Detective. È stata un'esperienza molto molto divertente, una curiosità insomma che avevo, anche perché quando uno è giovane deve provare a cimentarsi, no? Un attore deve cimentarsi in diverse esperienze. Adesso mi piacerebbe anche riprendere l'università, fare teatro, ho diversi progetti per il futuro e speriamo anche di ampliare la mia esperienza sul set perché è sicuramente un'esperienza formativa, ecco. Quindi è qualcosa comunque che vuoi coltivare, insomma. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Va bene, allora io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a te. Beh, a questo punto non solo ci diamo appuntamento al prossimo film, ma quindi ci immaginiamo di vederti anche più presto, anche in altre occasioni in video. Ti ringrazio.